Domenica 20 agosto 2017. Mancano 133 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Bernardo Abate. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Bernardo e Filiberto. Accadde oggi. Il 20 agosto del 1975 ha inizio il programma Viking della NASA, con lo scopo di ottenere immagini ad alta risoluzione di Marte, caratterizzare composizione dell'atmosfera e della superficie e ricercare tracce di vita aliena. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri a Carla Fracci, nata a Milano il 20 agosto 1936. La citazione del giorno. Esistono solo le cose che abbiamo scoperto da soli. Sono anche le uniche che conosciamo. Le altre. Sono tutte chiacchiere. Emil Cioran. Dice il saggio. Il piacere delle piccole cattiverie ci risparmia più di una cattiva azione. Proverbio cinese. La parola preziosa. La parola di oggi è abbaccone. Questo bel sostantivo è di uso piuttosto raro e indica una persona che ama fantasticare, volare con la fantasia. L'abbacone, insomma, è un sognatore con la testa spesso fra le nuvole.